Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Fabrizio Corona, sempre al centro dell'attenzione, ha scatenato l'ennesimo scandalo in una delle sue dirette su Twitch, ripreso mentre sniffa una misteriosa polvere bianca. L'ex re dei paparazzi, già noto per le sue provocazioni e dichiarazioni controverse, ha nuovamente sconvolto i suoi follower, sollevando polemiche e dubbi su cosa stessa realmente inalando durante le trasmissioni in streaming. Il tutto è avvenuto durante due dirette, una con il noto streamer Gramba o dell'altra con il Rosso, entrambe seguitissime dal pubblico giovane. Durante la trasmissione, Corona è stato immortalato mentre sniffava una polvere bianca, scatenando immediatamente reazioni contrastanti sui social. I più subito hanno pensato alla cocaina, vista la sua fama e le sue vicende passate, ma la realtà potrebbe essere molto diversa. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. A placare i dubbi ci ha pensato lo stesso Fabrizio Corona. Su Instagram, l'ex paparazzo ha spiegato che non si trattava di cocaina, ma di Pips Energy, un integratore energizzante in polvere bianca. Secondo Corona, questo prodotto dovrebbe dare una scarica di energia e adrenalina, favorendo il massimo delle prestazioni fisiche e mentali. Corona ha dichiarato, il segreto del successo è non fermarsi mai, avere determinazione, forza e aggressività anche se la strada è lunga e i gradini da salire sono tanti. L'adrenalina ti completa, è la chiave di tutto. Ha poi sottolineato che Pips Energy si assume sciogliendolo in acqua o mettendolo sotto la lingua, ma lui ha deciso di farlo in modo suo, in un gesto che, come al solito, non è passato inosservato. Questa mossa ha fatto discutere non solo per il modo in cui ha assunto l'integratore, ma anche per il pubblico a cui si rivolge. Con i giovani che seguono fedelmente le dirette di Granbaude e Il Rosso, la paura è che il messaggio lanciato possa essere frainteso, con il rischio di confondere un integratore con qualcosa di ben più pericoloso. Voi cosa non pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.